Giovedì 7 novembre 2013, presso l'Auditorium Testori nel Palazzo Lombardia di Milano, in Piazza Città di Lombardia 1, si è svolto il workshop di Action Group dal titolo Riqualificazione e Restauro. La partecipazione al corso è gratuita e prevede il riconoscimento di quattro crediti formativi dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi. I workshop di infoprogetto, formazione, informazione e business. Parter tecnico della giornata, anche Nova Linea. L'azienda è un'azienda che si trova a Cessalto in provincia di Treviso, produciamo scale per interno, siamo nel mercato delle scale da circa 40 anni e in questo momento siamo fra le prime aziende in Italia a livello di design e di sviluppo. Si parlerà di un nuovo prodotto che si chiama Tecno, nell'ambito dello sviluppo della nostra ricerca abbiamo pensato di trovare una soluzione per quanto riguarda la sostituzione della scala in muratura che diventa problematica nell'ambito della progettazione all'interno della ristrutturazione. Abbiamo studiato un prodotto particolare che ci permette di realizzare questo tipo di soluzione attraverso dei moduli in metallo con una regolazione particolare, un nostro brevetto. Diciamo che il professionista del settore trova utile questo tipo di prodotto diventando facile per lui la soluzione di salire i piani superiori delle case senza dover sconvolgere i solai per la problematica del peso della scala in muratura.